La carenza di infermieri nel pubblico e nel privato non fa più notizie. Per rimediare, oltre a innescare maggiore lungimiranza in cima alla catena di comando, è bene stringere alleanze come quella sancita dall'Ordine degli Infermieri e da UNEBA, l'associazione che riunisce una cinquantina di residenze per anziani e fragili. Sono stati mesi che ci hanno visto lavorare insieme su due tavoli differenti. Con uno abbiamo lavorato per la realizzazione di un codice etico degli infermieri in libera professione nelle nostre strutture, sull'altro abbiamo lavorato invece su delle job per gli infermieri in libera professione nell'RSA. Più infermieri in RSA dunque, ma anche più formazione, utile a rafforzare gli organici anche in termini di competenze e continuità. Questo incontro con UNEBA parte dal presupposto di creare una partnership tra professione e strutture residenziali per ottimizzare i percorsi dei nostri anziani che saranno poi percorsi sempre più futuribili rispetto al percorso sanitario, ma soprattutto socio-sanitario. Accordo lungimirante, specie in un territorio in cui riecheggia il canto delle sirene svizzere. Qui siamo vicini alla Svizzera, quindi chiaramente abbiamo anche una concorrenza vicino al confine e quindi tutti gli interventi regionali e nazionali per cercare di sostenere la professione infermieristica, tenere le persone sul nostro territorio e coinvolgerle anche con gli enti del terzo settore, no profit e le tante realtà dell'assistenza socio-sanitaria e assistenziale Lombarda.